Tutto sommato il giudizio finale per questo purificatore d'aria lo ritengo positivo, sia per come è stato realizzato sia per il suo funzionamento. Gli unici due problemi sono il prezzo troppo elevato e la mancanza di una certificazione che attesti tutte le sue caratteristiche. Mi è piaciuto che sia molto piccolo e che abbia una batteria interna, il che permette di utilizzarlo anche senza alimentazione. Essendo così contenuto può chiaramente purificare ambienti di dimensioni ridotte, come può essere giusto una piccola stanza o anche all'interno di una macchina. Ho fatto un test nella mia dispensa verificando la qualità dell'aria prima e dopo il suo utilizzo e effettivamente risultava un valore migliore dopo averlo lasciato acceso per un paio di ore. Al suo interno ha un filtro EPA per il filtraggio delle polveri che stando alla descrizione dovrebbe eliminare il 99,7% delle sostanze nocive. Inoltre è presente un LED ultravioletto per sterilizzare l'aria dai batteri e un filtro a carboni per eliminare gli odori. Quando è acceso in modalità automatica il LED sulla parte frontale indica la qualità dell'aria in base al colore. È verde se l'aria è pulita mentre giallo e rosso indicano la presenza di polveri nell'ambiente. Nella modalità automatica che si attiva all'accensione del purificatore la velocità della ventola viene impostata in base alla qualità dell'aria. Premendo nuovamente il tasto di accensione si passa invece in modalità manuale e si può impostare la velocità su tre livelli. Nei primi due la ventola è molto silenziosa e quasi non si percepisce, mentre al terzo livello il rumore è decisamente più elevato. Tenendo premuto il tasto per 5 secondi si può attivare la modalità turbo che rimane attiva per un'ora, dove il rumore è ancora più marcato e la ventola gira alla massima velocità. L'ultima modalità, quella notturna, si dovrebbe attivare tenendo premuto il tasto per 3 secondi e dovrebbe spegnere la luce LED. Dico dovrebbe perché non sono riuscito a attivarla e il LED mi rimane sempre acceso. Esteticamente lo trovo un bel oggetto, ha un bel design curato e moderno, mi è piaciuta molto anche la scatola che ritengo sempre importante per dare subito la giusta impressione al prodotto. Complessivamente quindi mi è piaciuto, però come detto il prezzo a 120 euro è veramente troppo elevato per un purificatore così piccolo. Se poi si considera che il filtro EPEV ha cambiato ogni 3 mesi, il prezzo lievita ulteriormente. Inoltre la mancanza di una certificazione mi lascia un po' perplesso anche se, come detto, dalle prove che ho fatto qualche effetto sembra averlo in ambienti di piccole dimensioni.